Dai saluta tu. No, io mi vergogno. È buono fa te eh? No, sei tu che mi hai chiesto di farlo. Eh eh, sti cancazzi. Non sono capace a fare queste cose. Va bene, inizio io. Ecco. Buonasera a tutti, video alternativo oggi, perché qua con me c'è la mia ragazza. Ciao a tutti. Come ti chiami? Daria, piacere. Tu hai già fatto tipo dei video quando eri più piccola, dove cucinavi, vero? Qualcose così. Dato che dopo quasi un anno che stiamo insieme non ha mai provato l'ebbrezza di venire sul grande schermo con me, non era un top senso eh? Non lo so. Allora abbiamo trovato un gioco per bambini. Ehi. È vero. Bambino ci sei tu, la Disney non è per bambini. Che magari possa azzerare il livello di competizione tra noi due. Perché con i giochi di macchine, racing, go-kart sono una pippa assurda. Perché io so forte. Vabbè è vero, non sai guidare nella realtà, non sai guida manco sui giochi. E sono ancora vivo, pensa un po' te. Ciancia le bande iniziamo. Ciancia le bande. Ah, guarda come siamo belli. Wow. Brava, metti le cuffie. Ma sono larghe, mi stanno grandi. E ho vinto la testa piccola. Ok, Disney Speedstorm. È gratis, per quello l'ho scaricato, se no che col cazzo che lo compravo. Com'è che si usano i pulsanti? Ah, non lo so nemmeno io. Può saltare Salagna, ok. Hai già giocato? No. Sono un nuovo tento. Sono veramente tentato da mentire. Vittorio, però c'è una bella grafica, eh. Sì, quello è vero. Bellissimo. Cioè, non me ne intendo, però. Oh, 60 fps è fatto bene, eh. Guarda qua sto provando io. Ok. Che te lo dici che stai provando tu? Io. E il cazzo di freno dov'è? Raggi il tempo. Oh, ma mi hanno messo proprio il mio gemello, Topolino. Uh, che cazzo è? Tu quello sei tu sul raccordo. Esatto. Alle 5 di mattina, poi. Vabbè, cazzo, è Mario Kart versione Disney, praticamente. Sì, appunto. Sono piuttosto deluso. Vabbè, dai, mi pare una mezza cazzata. Ma la cosa più bella è la canzone di Hercules come sottofondo. Io non so come faccio la canzone di Hercules, quindi mi fido. Uh, perché non è arrivato? Autoro dance. Ma perché a me mi fa provate, sì? Perché io sono più importante di te. Ma tu sei un coglione, basta. Nuovo pilota, nuova pilota. Topolino. Grazie. Multiplayer. Che vuol dire? Sono tutte bloccate. Vabbè, no, ti faccio correre te questa volta. Bravo, ecco. Stai buono, zitto. Voglio vedere quanto fai schifo. Ma tu fai schifo. Vabbè, non posso cambiare niente, c'ho solo Topolino in sta macchina. Appunto. Ma fa apposta, perché gareggi te. Oh, c'è Jack Sparrow e Hercules. Ma io quello che sei Hercules? Ma me ricordo i pulsanti, però, qual erano? Già sto a prendere dentro. Quando si ricarica la barra, premi X che ti dà il turbo. Dovado, 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 dovado. Triangolo, spari le cose. Sì, ma non c'ho niente che sparo. Hercules, non mi rompi le palle. Vai, X, c'è il turbo. Ti si ricarica. Ma hanno stoppato. Oh, sei terza su sei, eh. Amore, i cosi azzurri devi pigliare perché ti, vedi. Triangolo. X. Brava, sei prima, bravissima. Triangolo. No. Cioè, ha sfondato un lampione quello. Vai sempre dove non ci sono i potenziamenti, complimenti. Devo capire come funziona prima. Non so, esperta dei videogiochi, lo sai. Non ho mai giocato. Ho tagliato la strada, cioè, sono troppo furba. Quello che faccio anche alla guida. Non è vero, sono brava alla guida. Donna al volante. Sì, non è il mio caso. Dai, 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 dai. Prima. Com'era? Ero scarza. C'era il conto di me. Contro a pezzare i seri. Chi cazzo è Baloo? Ma è l'orso di... Yogi. Del libro della giungla. Ok. Adriano, tu verrai... Elizabeth chi è? Elizabeth... Suono. Vedi che non lo sai, non lo sai, non lo sai, non lo sai, non lo sai. Elizabeth. Vedi, volevi essere ecco, è l'altro ultimo. Ma perché lui è già... È già bravo, vedo. È certo. Ma in baglia dei pirati. Ancora nulla. Ma sto circuito iniziale, quanto minchia due, non sapevo che dovevo giocarci da solo. Ah, gara libera locale. Bisogna raggiungere il livello 3. Ok. Quindi dobbiamo arrivare al capitolo 3. Stoppo il video e ci vediamo al multiplayer. Finalmente non ci speravamo più. Allora. Ma fai pista casuale. Difficoltà CPU, media, alta. No, media. Estrema. Media, media. Media. Io voglio... Minnie. Che cazzo è questa roba qua? Di Monster & Co. È la fidanzata di Mike Vososky. È Meg. Io voglio... Andy. Si chiama Andy, no? Non si chiama Andy? Aiutatemi voi. Andy è il padrone, il giocattolo si chiama Woody. Scusa. Vabbè, io prendo Minnie. Carrozzeria, beh, rosa. Per forza. Ciao, rimani indietro, bello. Aspetta, io mi devo ancora abituare ad essere piccolo. Wuhuuu. Cazzo vado. Tu gioca la partita tua, non guarda a me. Perfatti perché io sto in fondo scusa. Ma come mi siete permessi. Bastardi! Che mi spieghi perché ho messo così tanti giocatori? Perché sì, è più adrenalinicos. Cazzo vado, ma so giocare? No. Oh, sono quattro giri, eh? Non sono due. Vabbè, è vero. Sono ancora al primo. Ah no, sto al secondo. Al secondo. Tutta merda, bastarda. Chi? Per coglionazzo laggiù. Mi stai facendo il culo, amore. Era ovvio. Ciao, ciao. Ma poi me li sono persi tutti, mando cazzo state. Eh, ti pareva? Ma perché lancio il coso a caso? Eh, sono settima, mi faccio schifo da sola. Brava, hai capito come funziona qui. Adriano, tanto dopo ti faccio il culo. Questa è solamente l'inizio. Della fine? No, no. L'inizio, vedi te. Ti combino dopo. Ciao, voody. Ma non hai preso Jack Sparrow, tu? No. Non non l'ho preso Jack Sparrow, esattamente. Che cazzo ne soffra? No, ma sto proprio a fanculo da tutti. Sì, vabbè. Sono pure caduta. Cioè, sono ottava. Ce la posso fare. Ultimo giri. Bastardo! Vabbè, sta partita è andata a merda. Godo. Ma godi che? Sto cazzo, godi. Sì, il treno di merda. Perché non ho mai derapato in tutta la partita? Sono a coglione. Perché se non derapi cosa succede? Boh, nulla in realtà. Allora. Tanto la vengo di preso sicuro. Invece no! Chi l'ha vinta questa? Eh, tu. Ho visto proprio a fanculo. Chi l'ha vinta questa? Adriano, vedi te, mo, che te combino. Aspetta che arrivo. Con calma. Vabbè, che ha fatto tutta... Io so io, voi non siete un cazzo. Sei arrivata ultima. Ma perché Min è una cogliona? Ci ha messo 25 secondi più di me. Voglio Aladino. Quella è Jasmine. Aladina. Ah, sei ad Agrabah? Sei pure dentro casa tua. Io so dire che devo vincere. Tu non mi puoi battere a casa. Te pareva. Pure partita male. C'è puttana. Vado. Tu non puoi battermi a casa mia. Io posso batterti ovunque. Eh, vaffan bene, eh. Ma perché sono sempre ultima? Colpa delle favole. No. Che battutone. Mamma mia. Cioè, quanto sei simpatico? Troppo, fra. È il culo essere, ma non tu i coglioni, eh. Ma perché vado a fangulo fuori? Ma sono ottava di nuovo. Ma com'è possibile? Oh, Aladina spigne, però, eh. Ancora con questa Aladina. Ma che cazzo è Aladina? È la mia personaggia. No. Ma dove vai? Se io ti rapo dall'altra parte. Ma perché vado a fangulo? Ma va al capottana, eh. Posibile che inciampo su ogni cazzo di cosa che mi capiti? No, quello è anche nella vita reale, amore. Eh, lo so. Però almeno qua voglio salvarmi il culo. La pista è cortissima, però. Sì. Devono chiamarla cortissima da un pezzo. Ma sorry di che? Sorry sto cazzo, sorry. Ero io, sorry. Comunque sto rivelutando lo scudo, eh. La corazza, come cazzo si chiama? Tiati questo in gola, godo. Ma vedi, sottofondo c'è il mondo è mio. Non so cosa cazzo, se il mondo è mio, ma mi fido. Cioè sì, va, te ne affammo. Da quando è un quattro pari napoletano? No, infatti non lo parlo, se sente. Ma come l'ho vinta? Ma come l'ho vinta? Ma so, vabbè. Non so ultima, so quinta. Tipo 0,1 secondi. Però, ha la dina bocciata. Mowgli. A noi ci piace il pericolo. Il bestione. Kawaii. Ah, questo è Stitch. Mai visto Stitch. Mi fai deprime veramente, amore. Mi sta già sul cazzo questo. A me, Jessie, mi piace. Sei proprio forte, Jessie. Sei fortissima, Jessie. Vai, manda a fuoco tutto e tutti. Sì, ma sto qua è ciccione, è pesante, non va. Ma come sono ultimo? Ops. No, no, sto vi un va bene. Ridatemi, Andy, per favore. Ho un completamente sbagliato personaggio. Vieni, paperino, che ti ostiono. Ti brucio. Uh, vola, vola, vola. La, poi, ma, iam. Sì, vabbè, dai. Sono quarta. Ma com'è possibile? No, ma sono io un ciccione del cazzo. Dai, ma che cos'è sta roba? Eh, ti rerutti quando non serve più. Bravo, gorilla, bravo. Non mi chiede un gorilla, è un mostro. È un coglione. Ma! Tacci de paperino! Ma ecco, mi ha fatto arriva l'ultima, sto coglione. C'è l'ultima seconda, quindi in realtà... Mamma, mi spiace, hai perso. Sì, è perché è un coglione questo qua. No, no, è poverino lui. Tutto a posto? Sì. Tu non hai niente neanche uno alla fine, quindi... A me va bene. Ti dirò, io torno su Andy. Cioè, su Jesse. Stanza di Andy. Stanza di Andy, vedi? Sono anche a casa mia. Bene. Sai, è un piacere vincere a casa tua. Sono di nuovo sesta, porca di quella puttana troia. Godo. Questo figlio di puttana... Oh, come t'ho preso, Godo. Figlio. Ma vaffanculo! Benissimo, tipo da quinto a secondo in un mezzo secondo. Tu? Sì. Perché? Perché sono potente. Io voglio andare lì sopra, perché non me ci fa andare? Perché non puoi. Perché? Perché sei scarsa. Ma tu sei scarsa. No. Come sempre sono davanti a te. Mi pare. Ultimo giro. Moment of the truth. Ma perché non ti chiappo mai? Chi vuoi chiappare? Cioè, quando lancio quella cosa viola... Detta anche sborra di Stitch. Ok, secondo ha più senso. Me lo metto già di più. Vedo il primo. Lo vedo. Chiappalo, coglionazzo. Chiappalo. È un momento buono per accelerare. È un momento buono. È un momento buono. È un momento buono. Spiazze. Spiazze per i ragazzi. Facciamo l'ultima. The last one. Allora, Jesse, questa volta mi hai... Veramente deluso. Vado con una cazzuta come Mad. Meg. Mad. Per lui è Hercules. No, questo è Gaston. È lui? No. C'è scritto Mulan. Che cazzo ne so io? Chi è Hercules? No, non è... Eccolo. Ok. Ma io guardavo, lui è il cane Fifone. Ovvero, roba seria. Come? Eh, te pareva. Sto pure ferma. Godo. Oh, oh, oh. Ma che è questa giungla? Ecco, mori. L'hai lanciato a me? Sì, amore. Poverino, guzzolino. Padre tempo opera in silenzio. Venite tutti vicino, Edda. D'aria. E intanto sei dietro. Sto pezzo mi frega sempre, porca... Oh, yeah, Danny! No, Adriano, sei uno stronzo! Ma tu madre... Interessante. Eh, va bene, allora abbiamo parlato. No, ne sono un ultimo. Che? Quinto, ce la potevimo fa. Cioè, te mi hai fatto prendere Hercules e... Io t'ho anche ascoltato. È un citofono del cazzo, questo. Un citofono? Sì, ma non si muove. Ultimo giro, mi devo impegnare. Godo, t'ho preso. No! Cioè, primo e secondo posto ce lo stiamo praticamente contendendo tra i tre personaggi del film. T'ho priva. Secondo, va bene. Ti ho battuto, ti ho battuto. Brava, brava, brava. Ti ho battuto. È bravissima, guarda. Per ben... Tre secondi. Boh, tre secondi. Make drop. Direi che possiamo chiudere qua. Dai, dimmi quello che devo dire e lo dico. No, è... Intanto mettere un pezzo di questi. Cioè, sicuramente. Forza. No, muo, dai, dimmi quello che devo dire. Eh, mica, c'è qualcuno che imbocca le battute quando faccio video. Ho capito, io ti imbocco i messaggi, io ti scrivo messaggi, tu mi imbocchi quello che devo dire. Cazzetto! Ciancia le bande. Eh, tu non conosci termini. Ciancia le bande, divitanza in portale, qual quadra non cosa.